Musica 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 Ciao a tutti amica e benvenuti in questo nuovo video Allora qui fuori in casa mia C'è una persona molto speciale E' proprio qui fuori E' scomparso Dov'è? Dov'è Joel? Un ladro Nooo non scappati Prego No sei nascosto dietro l'albero Ok, guarda mica mi caga è venuto dentro casa mia mica mi caga Meno male Quindi sai che dobbiamo fare oggi? Va bene oggi che faremo Joel? Vero Ah ti dico di gridare perchè il mio pubblico Eh in effetti è vero Ma ce l'ho lo stesso, c'è il patentino io eh Allora Joel benvenuto nella mia umile dimora Certo Oh my god E' stato strafissimo Comunque mi è arrivato quello Sai cosa ci sarà dentro? Vuoi aprirlo tu? Un computer No sta sotto Vai prendilo Ti obbligo a farlo Perfetto adesso infilaci la tua voglia di vive e buttala nel cestino Allora mi è arrivato questo oggetto qua Che cos'è? Nascato Vero Comunque lo aprirremo nel prossimo episodio quindi bravo grazie Quindi è finito il video Si ciao è stato bello dai salutami di tua madre Ah me nel bagno Comunque oggi faremo il quiz di patente di guida Quindi chi vincerà? Cosa vincerà? 200 euro Vero Però ci sta calmo Lo so l'ho fatto io Non pensi che manca qualcosa? Noo La luce Fai accendere il flash Tu oggi sei il mio ospite devi accendere le luci Yeah Hai visto quando è illuminata da Chaka di notte? Si ho messo un'altra amba lì Si Ma tutte le ho messe Tutte quante le ho messe Bene raga come si svolgerà il tutto? Io farò tutto dal computer Ci sta un quiz per la quale in the real picture? E invece lui lo farà dal suo telefono perché si Tutto verrà velocizzato e quindi vedrete un escalation di E poi vedrete chi ha vinto Ok è ora di cacciare vincite giusto Joel? Ok caccia le tue vincite bitch io caccerò le mie Allora vediamo se ho dei soldi Si eccoli i miei soldi Joel i miei soldi What? Ok Joel i soldi verranno messi sulla testa tua È bruttissimo Troppa roba Ok chiappati i soldi Ok dove li mettiamo? Aia Allora i soldi li metteremo Ma sotto non è per niente sicuro I soldi verranno messi in un posto ben preciso Che è? Verranno messi sul tavolino per far vedere che noi non abbiamo paura dei soldi Eh precisiamo Quindi togliamo tutte queste scatole Scusa Togliamo le scatole, togliamo i portafogli, li buttiamo sul letto Togliamoci anche le muta... no quelle no E quindi niente mi tocca accendere il pc e ci vediamo fra un pochino Si comincia Eh? Hai visto che si vede? Non si devono vedere quiz! No noi Si che ci vediamo Ci vediamo? Penso di si Comunque vedrai tutto velocizzato A dopo Vai si comincia No devi battere la mano Yeah! Ciao! 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 Abbiamo appena fatto Ora vedremo i risultati del test Mi riporto con me Allora Già sappiamo che abbiamo fatto schifo alla merda Però potrebbe andare meglio Vero Joel? Sì Vai comincia tu Vediamo con quanto sei uscito Non hai compilato Aspetta No Ma l'ho messo avrì Vabbè vai Vediamo Bocciato Quanti errori però? Sei Però però la patente I fotti I fotti Ti sistema E ora è arrivato il momento del giudizio Caro Joel Per assicurarsi Tutti questi soldoni Sono abbastanza tanti E poi Joel ci ha fatto sta casetta bellissima Bravo Joel Ora tocca a me Chissà con quanto sarà uscito Sei pronto? 3 2 1 Sbam 3 8 Promosso 4 errori Sì 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 Fotti Ti dammi quei cazzo di soldi Che soldi Sì Sono ricco Sai che mi ci compro sti soldi? Quello che c'è sopra la maglietta Ovviamente si scherza Non usate droghe E come ti senti ad aver perso tanti soldi? Tanti soldi? Questo è il mio patrimonio Yeee Ho vinto tutti questi soldi Sì A che li spendo? Boh Li puoi regalare Ok tieni No non è vero Ok li lascio là per terra Arte contemporanea È accogliente no? Va bene I nostri soldi ci stanno Quindi usciamo Raccompagniamo Joel a casa E vai Va bene Joel Ho perso le chiave Non mi aspettavo di vincere C'avevo un progetto che se tu sbagliavi Che era fantastico Io ho sbagliato infatti Cioè in realtà se vincevi Che era sbagliato Va bene raga Non so quando è durato sto video Penso pochissimo no? Entro i due o tre minuti Ok raga Per questo video è tutto Oggi siamo qui Per vincere soldi E l'abbiamo fatto Quindi un punto in più All'ami gang E Che b***o a te Joel Fai parte dell'ami gang tu? Eh? No Vai fuori da casa mia Vatti a schiera con Pingu Quel b***o Dai Joel Vieni qua Jolly Ok Joel Ce l'abbiamo fatta Il video è fatto Quindi noi ci vediamo Un prossimo video Passati in tutti i social In descrizione Per diventare un membro Della mi gang E quello che non sei tu Bisogna seguire tutti i social Compreso YouTube Quindi lasciare like E qualche commento Sì ciao Anche Twitter Ciao a tutti Ciao ciao